Ti piacerebbe migliorare in un colpo solo pressione del sangue, colesterolo e glicemia attraverso specifici cibi? Per di più buoni come il cacao? Non sarebbe male, no? No, vedi, te lo chiedo perché stavo guardando un video pubblicato dal dottor Greger, un medico americano che stimo molto e che ha dedicato tutta la sua vita alla divulgazione dello stretto legame tra dieta e salute. In questo video si sottolineava la potenzialità dei flavanoli, ne fanno parte molecole come le catechine, le pichette catechigalalle pro... vabbè hai capito ma non è importante conoscere i nomi. Decisamente più utile è individuare gli alimenti che ne sono più ricchi come ad esempio tè verde e tè nero, di gran lunga i più ricchi di tutti, ma anche frutti di bosco, cacao amaro, mele, uva rossa, come vedi cibi e bevande non solo buoni ma che mi senti nominare spesso spessissimo e che anzi ti incoraggio a consumare con una certa regolarità. Ma guarda non è nemmeno questo quello di cui vorrei parlarti oggi, bensì di una riflessione più ampia che ho maturato mentre guardavo proprio quel video. Una riflessione che probabilmente ha trovato terreno fertile anche considerando il mio ultimo video, quello che ho pubblicato qualche giorno fa dove ti ho descritto il modo ideale di consumare le brassicacee, ovvero con tutto quel cinema di avvertenze del tipo. Meglio crude o al limite cotte ma pochissimo eh? O perlomeno con l'aggiunta finale di semi di senape ma crudo eh? Lo so lo so sto continuando a divagare ma adesso arrivo al punto, giuro. Ebbene il dottor Greger rilevava di come un enzima presente nelle banane sia in grado di distruggere queste preziose sostanze, questi di flavanoli. Quindi il suo consiglio è di evitare di consumare smuti. Smuti è il termine figo che si usa per indicare un banalissimo frullato. Dicevo smuti contenenti sia cibi fonti di flavanoli che di banana perché quest'ultimo potrebbe annullare i benefici dei primi. In realtà questo enzima non è presente solo nelle banane ma anche in altri frutti. Del punto di vista della pianta si tratta di un meccanismo di difesa ma quanto è importante per noi evitare questa associazione tra enzima della banana e cibi ricchi di flavanoli? Cioè per migliorare la nostra salute dobbiamo davvero evitare di farci frullati e macedonie con banane e frutti di bosco o più semplicemente banane e mela per non perdere tutti questi benefici delle catechine? Dovremmo iniziare magari a cuocere la banana prima di metterla nel frullatore così da inattivare quell'antipatico enzima distruttore di polifenoli? O almeno metterci sempre del limone che sembra contrastarne l'azione? E tornando alle brassicacee dobbiamo quindi sentirci obbligati a cucinarle sempre come ti ho spiegato nel precedente video altrimenti sarebbe come non mangiarle? Dobbiamo arrivare a evitare di aggiungere la banana nel porridge a colazione perché altrimenti ci annulli i benefici del cacao amaro? Il dottor Greger pensa di sì. Al mattino lui ha deciso di non mettere più la banana ma con tutti i limiti delle mie competenze. Stavolta non sono sicuro che sia la scelta giusta. Cioè da un punto di vista chimico sì è vero abbiamo detto e visto e provato che la banana inattiva quelle sostanze preziose ma sappiamo ancora probabilmente molto poco di tutte le interazioni tra i cibi ma sappiamo che ne esistono tantissime. Ad esempio sono sicuro che avrei già sentito il consiglio di assumere durante i pasti una fonte di vitamina c per massimizzare l'assorbimento del ferro oppure potreste aver sentito che è meglio evitare di consumare tè o caffè a pranzo e cena perché i tannini contenuti possono al contrario inibire l'assorbimento del ferro anonimico. Ma sai come la vedo io? A meno di carenze particolari, di situazioni specifiche. Probabilmente è molto meglio lasciare tutte queste indagini biochimiche al mondo della ricerca accademica e focalizzarci invece sulla dieta nel complesso che come diciamo sempre dovrebbe essere varia non solo nella scelta degli ingredienti ma anche nelle loro combinazioni e metodi di preparazione. Sai qual è la mia sensazione? Che questa attenzione crescente verso una dieta più sana che ben venga per carità rischi di sfociare in una medicalizzazione non necessaria e eccessiva un approccio riduzionistico che potrebbe rivelarsi addirittura controproducente. È molto 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 probabile che le interferenze negative che conosciamo come quelle che ti ho appena descritto in apertura tra banane e frutti di bosco siano in realtà solo alcune delle centinaia esistenti forse migliaia al pari ovviamente delle sinergie positive come quella tra vitamina c e ferro. Imporci in modo sistematico ossessivo delle scelte fondate su nozioni chimiche sempre più fine in campo nutrizionale a mio avviso può essere un rischio perché ci allontana da una più corretta e rilassata visione di insieme. Ramsfeld è stato un politico militare e diplomatico statunitense segretario della difesa negli anni 70 e tu giustamente mi dirai cosa c'entra con la mia dieta. Vero ma lui dobbiamo un concetto molto importante o o quantomeno il merito di averlo reso più noto anche al grande pubblico. Ci sono cose che sappiamo di conoscere ad esempio il fatto che la vitamina c aumenti l'assorbimento del ferro. Ci sono cose che sappiamo di non conoscere ad esempio come funziona esattamente il cervello ma il pericolo più grande e spesso nelle informazioni che non sappiamo di non sapere perché ad esempio non ne sospettiamo nemmeno l'esistenza. La varietà e la rotazione del cibo che porti in tavola è la migliore risposta empirica a questo grosso rischio perché ti permette di diversificare continuamente il tuo approccio esattamente come un bravo investitore diversifica i suoi investimenti. Attenzione questo non significa affatto rifiutare tutte le conquiste della scienza della nutrizione degli ultimi decenni. Al contrario il modo corretto per abbracciare quelle indicazioni che sono tanto più generali quanto più solide. Cioè parliamoci chiaro secondo te cosa conta di più? Scoprire in una provetta che la banana disattiva una certa molecola benefica del cacao oppure sapere da studi epidemiologici ripetuti condotti complessivamente su milioni di persone che mangiare più frutta e verdura fa bene, che mangiare legumi fa bene, che è meglio preferire i cereali integrali a quelli raffinati e così via. Io e te dobbiamo basare le nostre scelte quotidiane su queste indicazioni a livello generale di categorie alimentari non di sostanze chimiche contenute. I nostri nonni non sapevano nulla di queste cose ma non avevano problemi né di pressione alta né di glicemia guarda caso. Le popolazioni di cacciatori raccoglitori non hanno nemmeno idea del concetto di sostanza chimica. Non solo non ne conoscono la definizione ma non sanno nemmeno di ignorarla. Eppure godono di una salute metabolica invidiabile, drammaticamente migliore della nostra, peraltro senza nemmeno l'accesso che abbiamo noi ma una varietà praticamente infinita di cibo e di scelte. Guarda sarò per sempre grato al dottor Greger e continuerò a seguirlo anche più di prima. Tra l'altro probabilmente proprio grazie al suo primo libro che è scoccata quella scintilla che mi ha fatto comprendere l'imprescindibilità di una dieta sana. Ma questa volta con grande, grandissima umiltà devo dire di non essere completamente d'accordo con lui. Conoscere l'interazione negativa fra frutti di bosco e banana è interessante da un punto di vista concettuale, prezioso, ma si tratta di una nozione utile ai ricercatori, non a mete. Poi oh, siamo chiari, questa possibile interazione nella peggiore dell'ipotesi limita solo una minima parte dei grandissimi benefici apportati dalla frutta, non ne cancella completamente il contributo positivo alla salute. In un paese come l'Italia, dove il problema grosso è che non mangiamo abbastanza frutta e verdura. Io non vorrei che oggi pomeriggio a merenda, aprendo il frigo e trovandoti a dover scegliere tra una fetta di torta e un frullato, una macedonia di fragole e banane, tu optassi per la torta, pensando che con la macedonia saresti tristemente vittima della polifenolossidasi. Grazie, grazie, grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai, mai, mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!